Con l'assessore alla cultura del Comune di Pavia, Giacomo Galazzo, oggi all'inaugurazione della mostra sulla scapigliatura. Cosa significa questa mostra per la primavera culturale di Pavia? È una mostra straordinariamente importante perché anzitutto prosegue l'esperienza delle scuderie che è ripartita l'anno scorso con risultati molto importanti. L'anno scorso le mostre delle scuderie hanno portato al castello più di 43.000 persone e ci aspettiamo ancora cose importanti da quest'anno. Ed è importante dal punto di vista culturale perché prosegue un ragionamento, un'indagine sul tema dell'Ottocento italiano che abbiamo inaugurato con i macchiaioli nell'autunno scorso e che questa mostra concretizza in modo molto evidente. Se già nel percorso sui macchiaioli tre opere dei nostri musei erano tra le protagoniste dell'esposizione, questa volta il legame è ancora più evidente perché la mostra indaga e approfondisce il movimento della scapigliatura a partire da Tranquillo Cremona che a Pavia si è nato e si è formato. Quindi è una mostra straordinariamente importante dal punto di vista artistico perché indaga un movimento di grande interesse, secondo me la scapigliatura in tutte le sue forme perché ci sono dei box di approfondimento anche sulla letteratura e sulla musica. Ma è anche una mostra straordinariamente pavese in cui le opere dei nostri musei hanno veramente un ruolo di grande evidenza e di grande protagonismo. E quindi l'idea di promuovere il patrimonio dei nostri musei, in particolare il patrimonio di pittura dell'Ottocento, che è uno dei tesori più grandi dei nostri musei, anche con questi grandi eventi in cui le nostre opere si incontrano con altri capolavori provenienti, da altri musei come la collezione privata, è sicuramente un'azione di racconto della nostra ricchezza culturale e della città che penso sia importante fare. Quindi l'invito davvero è una visita a questa mostra che non deluderà. Simona Bartolena è la curatrice della mostra Tranquillo Cremona e la scapigliatura. Cosa ha rappresentato questo movimento artistico per il mondo culturale pavese e per quello italiano? Quella della scapigliatura è stata una grande rivoluzione. Una generazione delusa, delusa dalle sorti dell'Unità d'Italia, delusa dalla società in cui vive, si ribella, si ribella con un'attitudine che poi sarà quella delle avanguardie, dei futuristi, di tutte le generazioni successive. E decide di dire la propria, un pensiero anti-accademico, un pensiero moderno, innovativo, in tutte le arti. Il concetto di arti sorelle, di sinestesia delle discipline, quindi di un modo di sentire, di un modo di esprimersi che riguardi non solo la pittura e la scultura, ma anche la musica, la letteratura e tutto il resto, viene espresso da questo movimento. Un gruppo di amici, un gruppo di amici che vanno nelle osterie, frequentano i salotti bene dell'area di Milano e dintorni, della Lombardia, e che decide di raccontare la sua opinione, il suo modo di sentire, con libri, dipinti, sculture, brani musicali. Tutto questo è raccontato in una mostra per riscoprire un movimento che è molto più europeo di quanto non si sia detto e creduto ed è sicuramente molto attuale e moderno, quindi penso possa interessare anche a chi non apprezza in genere l'arte dell'Ottocento, ma ritroverà degli spunti di notevole attualità nel linguaggio e nelle modalità espressive di questi artisti.